Ciao, Mauro Solmi, difesa del coordinatore dei Warriors, una partita sicuramente molto sentita da entrambe le squadre, diciamo che entrambe le squadre hanno sicuramente onorato il campo, avevamo voglia di vincerla e l'abbiamo dimostrato, eravamo veramente in una condizione un po' presi per il collo, però chiunque è entrato in campo ha fatto il proprio dovere e questo è importante, al di là della vittoria e del risultato, intanto siamo a due e cerchiamo di finire al meglio il campionato, grazie.